Due amici con la passione per gli anni 80, la musica e il do it yourself, ovvero il fai-da-te. Così nasce Audiocase, una start-up di due ragazzi danesi, Soren e Mikkel, con sede a Copenaghen. Il primo ha realizzato la cassa altoparlante, il secondo è un interaction designer e DJ. Queste casse portatili, che sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter hanno già raccolto oltre 180.000 dollari sui 150.000 da obiettivo per trasformare il loro sogno in realtà, sono praticamente indistruttibili e adatte a ogni occasione. Pesto in spiaggia, ballo in strada o in giardino con gli amici. Dotate di Bluetooth e connessione wireless, sono realizzate in 5 colori pop e hanno una batteria ricaricabile della durata di circa 24 ore.